Con Massimo Friso, l'allenatore della Virtus Padova, Massimo una partita dai due volti, sofferto troppo forse nella ripresa la maggiore reattività fisica della Fiorentina che nonostante il vostro vantaggio fisico, poi Odirifo Diraffa è riuscita a mettervi in difficoltà? Sì, l'entusiasmo, la voglia di far vedere che anche assemblando una squadra all'ultimo secondo si può giocare in questo campionato, i giovani giocatori della Fiorentina hanno fatto bene, direi che Bianchi Tommaso stasera è stato nettamente il miglior giocatore ma non solo perché ha segnato 13 punti e ha preso 8 rimbalzi ma per lo spirito è la volontà che ha messo in campo. Non voler mollare anche di fronte a una differenza fisica? Vinta nei primi due quarti ma non nel secondo, credo che Stefano Salieri abbia fatto un conto molto preciso, essendo il cosiddetto inferiore dal punto di vista di chi li abbia raddoppiato forte e abbia concesso qualcosa sul perimetro, noi abbiamo tirato da liberi tante volte. 5 su 27 è un altro dato? 5 su 27 con il 19%, in serie B2 con gli esterni che ci sono in B2 non va assolutamente bene e soprattutto con il 59% per quello che riguarda i tiri liberi, per cui sul perimetro non siamo stati così efficaci a contrastare i raddoppi che si sono stati fatti sotto canestro, per cui loro con grande merito ci hanno creduto, nel terzo e nel quarto quarto hanno dato veramente un'impronta di grande aggressività e di grande ritmo e si sono portati a casa meritatamente la partita. Per noi ci cospargiamo il capo di cenere e dobbiamo capire che l'anno scorso, trionfale per la C, è finito e il campionato di DB è assolutamente diverso.